Pedalare fra le campagne della pianura pinerolese, celebre per i suoi frutteti, e ai piedi delle montagne delle valli Pellice, Po, Bronda e Infernotto. Da qualche settimana è più facile e sicuro, grazie alla pista ciclabile Via della Pietra, che si inaugura sabato 28 ottobre a Bibiana, alla presenza delle autorità della città metropolitana, degli amministratori locali e degli appassionati del cicloturismo. La Via della Pietra è stata tracciata sul sedime della ferrovia dismessa Bricherasio-Bargia-Irasca-Saluzzo. Dopo il primo lotto realizzato negli anni scorsi, restava da completare un ultimo tratto di circa 800 metri, al confine con la provincia di Cuneo, nel territorio di Bibiana, se ne è fatta carico la città metropolitana di Torino. Una struttura che ha la sua importanza, soprattutto per l'ultimo tratto che è stato finito, grazie alla città metropolitana. È un tratto che comunque mancava perché, dopo anni che era stata realizzata il primo tratto, grazie alla città metropolitana che è riuscita a concludere questo tratto, diciamo che dal punto di vista turistico e anche per quanto riguarda la popolazione bibbianese e non solo, è comunque una struttura molto interessante. L'obiettivo di questa pista cicloturistica è appunto questo, quindi far conoscere il territorio, far conoscere le nostre realtà del nostro comune e dei comuni limitrofi, con le nostre varie attrattive sia gastronomiche, sia culturali che ambientali della nostra zona. Alle nostre spalle gli 800 metri che completano questo anello, questa via della pietra, importante perché appunto si chiude un itinerario a cavallo fra le due province. Esatto, questo è l'ultimo tratto che verrà inaugurato tra una settimana, grazie al contributo di città metropolitana e chiude di fatto un collegamento molto importante tra la provincia di Torino e la provincia di Cuneo, quindi in particolare da Bricarasio fino a Barge. A livello di attrattiva turistica per il territorio è molto importante, soprattutto per quanto riguarda il cicloturismo, quindi per incentivare tutto quello che è il consumo di prodotti del territorio, per valorizzare le nostre campagne e tutto quello che è l'indotto legato ai comuni che vengono collegati. Siamo vicini a una grande città come Torino, ma anche a una città importante come Saluzzo, quindi l'invito è a chi ama la bicicletta in queste due aree urbane a venire a scoprire il territorio, ma anche ai turisti stranieri. Certo, infatti noi abbiamo diversi turisti stranieri, in particolare dal nord Europa, che tramite appunto il cicloturismo vengono anche fuori stagione a trovarci e effettivamente gradiscono molto queste nostre iniziative, queste infrastrutture. Perché qui in bicicletta si può venire a scoprire la storia della pietra di Ruserna e a conoscere questi prodotti tipici, soprattutto la frutta del Pinerolese? Esatto, la frutta del Pinerolese è un elemento importante, anche perché comunque di fruttetti noi ne abbiamo di tutti i tipi. Infatti valorizziamo anche molto la parte del biologico, nelle nostre varie aziende che o vendono tramite vendita diretta, oppure vendono tramite cooperative e è un settore che si sta espandendo molto negli ultimi anni.